Ciao! Oggi parliamo di esperienze che abbiamo avuto con la polizia. Ok, allora esperienze tipo brutte, no? Sì, esatto. Un po' in tutta la tua vita, quali hai avuto? Da dove comincio questo? Allora, ti dico, proprio ieri mi è successo che mentre venivamo qua ci ha fermati la polizia e ci ha un po' registrati come se fossimo dei criminali, ti dico, è stato brutto. Allora, ti racconto brevemente, va bene? Tipo, stavamo venendo qua, avevamo preso la macchina, l'Uber, la polizia ha fermato l'Uber e a un certo punto ci ha fatto scendere, ha registrati i documenti, lo zaino che pensavano che stavamo portando non so chissà che cosa, mi hanno chiesto, sì, ti giuro. Ma così a caso vi ha fermato? Sì, noi non capivamo perché, perché a un certo punto ho detto, ma scusami ma magari mi hai confuso io dico, perché una cosa del genere non mi era mai capitata, quindi io ho detto. Ma infatti, che strano. Ho detto perché, io mi sono sentito come nei film che ti mettono le mani, che ti registrano, che ti sto portando droga e mi ha detto qualcosa da dichiarare, ho detto ma che devo dichiarare? In più mi fa, ma tu che lavoro fai? Io come gli dico che faccio dei video? Ma questo è un lavoro, è qualcosa di serio. Ha detto questo è lozio? Sì, e mi fa, ma qualcosa, io gli ho detto, ma sì, io voglio cercare su YouTube, mi segui, segui se vuoi, non lo so che cosa devo dire. Quindi salutiamo il poliziotto che ti ha fermato. Sì, infatti mi fa, ma guarda che noi siamo gentili con te. Ma come gentili? Ma guarda che mi stai registrando tutto, mi ha toccato tutto questo. Mi fa, sono gentile, ma come gentile? Beh, ma magari era uno scambio di persona. Sì, può essere. Io penso perché anche l'autista ha detto, guarda che io non avevo mai visto un poliziotto che registrava così tanto, non so che cosa voleva scoprire. Ha presso il cellulare, mi ha chiesto il modello, la marca, mi ha detto sbloccalo, mi ha detto un sacco di cose. Poi una volta che ha capito che veramente, mi ha detto dove abiti? Io abito qua di fronte, mi ha fatto vedere casa mia e mi fa, no ma, perché io ho chiesto anche il perché, eppure mi ha detto che, perché abbiamo delle, come si dice, delle denunce che qua stanno rubando molto e quindi, ma io ho detto, vabbè ma scusami, dopo un certo punto che ti dovi i miei documenti e tutto. Ebbè, certo, vedi che io non ho fatto niente. E tu mi lasci andare, no, che dobbiamo cercare bene, che qua e là. Mi ha chiesto come tre volte, se avevo qualcosa da dichiarare, ma queste cose mi sono capitate soltanto qua in Europa. E non so, magari, va bene, non lo voglio dire, ma non so che faccia o che magari faccia la criminale, l'hai detto te anche. O magari da voi non c'è la polizia. Non è che non c'è, però avendo tante persone per strada, io dico, va bene. No, ma magari l'hanno fatto per uno scambio di persona. Sicuramente succede a volte, scambio di persona, magari tu potevi aver dato un documento falso e quindi volevano accertarsi che fossi veramente tu. Sì, ma meno male che ero, diciamo, non ero di cattivo umore perché stavo, ero felice quello di mattina che stavo uscendo un po' e mi ha detto, va, 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 lasciamo perdere. Invece te? Io ho esperienze con la polizia? Secondo me non hai avuto nessuna esperienza con la polizia. E invece sì, non ho la faccia da criminale. Non hai la faccia come me, da criminale, no? Che ti possono registrare. Allora, magari non come a te che mi hanno fermato per strada, però sì, ne ho avuta una molto divertente, devo dire. Era tre anni fa e io questa... Sì, sì, un po' di tempo in realtà è passato. Insomma, io e una mia amica volevamo organizzare una festa per Halloween, perché era Halloween, e questa mia amica dice, dai, facciamola a casa mia e invitiamo 50 persone, più o meno. Mazzo piccola la festa. Sì, no, esatto, che poi in casa sua 50 persone nemmeno ci stavano. Però lei ha detto, vabbè, dai, facciamo questa pazzia, invitiamo 50 persone. E ha detto ad ognuna di queste 50 persone, invitate chi volete. Quindi tu puoi già immaginare, no? Allora, arriva il giorno della festa e i suoi quel giorno sono dovuti rimanere a casa, perché Sossare la più piccola aveva la febbre, quindi erano al piano di sopra. E insomma, arriva il giorno... Quindi i suoi erano a casa? Eh sì, erano a casa, al piano di sopra. Quindi avrebbero sentito e visto tutto. Ma non hanno sentito... Ok, continuo. Adesso, insomma, praticamente, insomma, arriva l'orario. Iniziano ad arrivare un bel po' di persone. Già tipo 60 persone buone c'erano. E già lì iniziano ad entrare. Intanto non ci stavano, quindi metà stavano nelle scale, metà un po' davanti al cancello, metà in sala, metà in terrazza. E noi avevamo pure chiamato un DJ, quindi c'era pure il DJ con la console. Ma che cos'è? Cazzo è una discoteca! L'abbiamo trasformata, abbiamo messo la televisione dentro la cucina. I giubbotti li buttavamo dentro la cucina, senza neanche una tacca panni. Così. Venite! E insomma, alla fine inizia ad arrivare sempre, sempre, sempre più gente. Più o meno 200 persone c'erano buone. Ammazza! Quante... La cassa era grande? No, non era grande. È solo che infatti stavano nel cancello e fuori dal cancello anche. La gente che voleva entrare, ma eravamo tutti appiccicati e stretti, che non si riusciva nemmeno a passare. E a un certo punto la gente inizia a prendere le casse, a ballare con le casse. Hanno mandato via il DJ, il DJ è dovuto scappare, gli ha lasciato le casse lì. La gente lì l'ha distrutte. A un certo punto c'era uno che si è tolto la maglietta, ha iniziato a prendere la cassa, a ballare, scendono i suoi a vedere cosa stesse succedendo. Infatti, perché stavano mettendo tanto rumore. Da morire. E loro pensavano che ci fossero 20 persone, avevamo detto. Tutti i nostri amici. In realtà, gente mai vista. E insomma... Sì, ha fatto molto ridere. E insomma, a un certo punto hanno fatto un disastro. I suoi appunto volevano sapere cosa fosse successo, perché c'erano tutte queste persone, gente che prendeva la wifi, la buttava fuori dalla finestra, gente che prendeva di tutto, aveva fatto un macello. Non so se sembra il film, quello... Project X? Project X. È la stessa identità, sì. È quello che ho pensato, che l'ho visto dopo aver fatto la festa, ho detto, ma cavolo, è la mia festa? Mi hanno rubato l'idea. Potevamo farlo, no? Mettevamo uno che registrava, e guarda, sarebbe venuto bellissimo. E cos'è successo quando sono successi loro? E i suoi genitori, dici? Beh, allora hanno chiamato la mia amica, l'hanno portata su in camera, e hanno detto, ma cosa sta succedendo? La mia amica ovviamente non gli voleva dire, li ho invitati io. Ha detto, guarda, non lo so, sempre più gente si è invitata, la gente ha invitato altre persone, quindi siamo arrivati a 200 persone. Un disastro. I vicini che chiamavano i suoi genitori per dirgli che c'era una confusione allucinante. E insomma, alla fine, hanno chiamato i carabinieri. E sono arrivati i carabinieri e abbiamo avuto una fortuna allucinante perché l'abbiamo rischiata grossa, perché abbiamo sentito che stavano arrivando i carabinieri, abbiamo buttato tutti fuori, tutti sono scappati, e quando abbiamo chiuso la porta sono passati proprio vicino alla porta i carabinieri e non sono entrati dentro casa, per fortuna, perché se no i genitori della mia amica, e noi eravamo minorenni, quindi in realtà non è che ci succedeva questa cosa, però i genitori della mia amica avevano grossi guai. Quindi, per fortuna, non sono entrati in casa, la gente è scappata, c'è gente che è tipo... una persona stava correndo e è caduta dentro un fosso, ti è scappato, un altro è stato arrestato fuori perché ha rotto un finestrino di una macchina, e un disastro, un disastro. ma se che... io, guardami, non ti vedevo in quella situazione, adesso hai cambiato un po' il mio concetto, io non ti vedevo in quella situazione, a me soltanto registrano, invece a te, proprio ti volevano arrestare. mamma mia. Alla fine poi, però alla fine, immagino che l'avranno punita lei, no? Ma in realtà no, perché lei aveva detto che era... proprio la scappata. Che in realtà non era stata colpa sua, quindi c'era sua mamma che continuava a ridere, suo papà era sconvolto, e in realtà non è che se la sono presi con lei, perché non pensavano che lei avesse invitato le persone e non lo sapranno mai, ovviamente. Dopo che guardano dei video. A meno che non guardano questo video. Esatto. Hai venduto la tua amica. Adesso mi ammazzerà. Però no, alla fine non l'hanno mai saputo, quindi benissimo, solo che ne hanno parlato al telegiornale, il giorno dopo. Al telegiornale. E anche sul giornale siamo usciti. Anche sul giornale? Sì. Però bella l'esperienza. Quale giornale? Che lo cerco e la metto in un quadro e la faccio vedere per sempre questa. Però bella, eh? Bella l'esperienza questa. Bella, se si può chiamare bella. Certo. La raccontare. Esatto, un aneddoto che mi rimarrà sempre, che fa molto ridere. Nel momento l'ho sconvolta, però ora rido molto. Dai, sì. Questa è andata. Diciamo che questa si può raccontare. Poi un'altra esperienza sicuramente dopo la racconteremmo, no? Certo. Dopo piano piano andremo a contare un po' di queste storie. Sempre, esatto. Io ti devo raccontare anche un paio di cose ancora. Però le lascio per la prossima. Per la prossima, ok. Sì, per la prossima, perché sicuramente ci sarà da ridere. Ok. Ci sarà da ridere. Va bene. Va bene, va bene. Dopo ne parliamo ancora. Ok, va bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.